ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi è un video speciale perché faremo un video in collaborazione con la epoxyshop.it di fabio lucidi praticamente mi hanno inviato dei prodotti per farmeli provare e oggi mi è arrivato il pacco che adesso vi mostro vi faccio vedere eccolo qua vedete ho già aperto il pacco cioè non ho guardato niente ma volevo vedere se avevano messo il bigliettino da visita così lo facevo vedere subito ovviamente qui nel bigliettino da visita trovate tutte le loro con i loro contatti questo cellulare fax e la loro email dove potete trovare tutti i loro prodotti e noi andiamo a vedere adesso cosa mi hanno inviato metto questo così così potete vedere il bigliettino ok andiamo a vedere cosa mi hanno mandato questo è il primo sacchettino che vi faccio vedere in cui già io l'avevo aperto questo e mi hanno mandato dei a bassa lingua per mescolare la resina e questi dove sono questi bigliettini da visita e quello che vi ho fatto vedere infatti ringrazio ovviamente la epoxyshop per questa collaborazione che mi ha resa veramente veramente molto felice andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è il pacco ovviamente è stato incattato benissimo ecco qui dai scusate l'attesa ma sto cercando le cose in un del pacco ecco qua non li vedevo tutti io non so cosa mi hanno inviato sto guardando adesso insieme a voi ok ci sono questi sono penso dei coloranti per resina e sono di questi colori c'è il c'è il blu nero dai blu nero bianco rosso giallo sono veramente bellissimi colori guardate come come sono intensi ovviamente tutto quello che vedrete adesso in questo video poi li proveremo insieme in altri video magari saranno più di uno o questo un po uscito fuori comunque non fa niente ovviamente li proveremo in video diversi aspettate un attimo che sposto questi metto quale parte ecco vediamo cos'altro c'è poi mi hanno inviato ecco mi hanno inviato questa gomma siliconica qui componente a e componente dove b il rapporto è 100 a 10 cioè sarebbe 100 di componente a e 10 di componente b non vedo l'ora di usarla credo sia gomma siliconica da colata se non mi sbaglio sì e presto la proveremo insieme non vedo l'ora la metto qua da parte poi mi hanno inviato dov'è no perdonatemi se vi faccio aspettare ma ovviamente devo cercare cosa mi hanno inviato mi hanno inviato questi che sono delle resine ovviamente questi sono componenti a componente b e componente a componente b come sempre come tutte le resine ecco qui ho finito tutto il pacco ok il rapporto è uno a uno di questa che si chiama poliutera poliuretano da colata rapporto uno a uno cioè 100 grammi di componente a e 100 grammi di componente b che sono belle queste queste come si chiamano queste bottigliette mi piacciono un sacco troppo carine poi mi hanno inviato quest'altra resina rapporto 160 vuol dire 100 grammi di componente a e 60 di componente b e si chiama epoxi gloss trasparente penso che sia quella trasparentissima diciamo molto trasparente questa è verde quella è rossa vedete per magari distinguerla ecco qui e niente questo è tutto quello che ha inviato la epoxi shop sono veramente contentissima di questa collaborazione vi faccio vedere ancora il bigliettino della visita e niente spero che questo video vi sia piaciuto molto presto proveremo insieme tutte e tutto quello che vedete qui sopra ovviamente in vari video diversi non tutti nello stesso video e niente spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile giù in infobox vi lascio i contatti della epoxi shop punto it e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao